Piero Domenici che è appunto il prossimo relatore e che è quella persona accanto a Vittorio Pasteris che immagino conosciate tutti, è un professore dell'Università di Perugia, si occupa di sociologia, è un sociologo, soprattutto è un sociologo della complessità, lui poi vi spiegherà che cosa significa e è appunto anche l'autore di quel saggio che ho citato nel mio intervento che parla appunto del ruolo, del grande ruolo che l'informazione detiene, continua a detenere e di quanto non riusciamo ad utilizzarlo nel modo opportuno, soprattutto quando ci troviamo di fronte a eventi catastrofici. Nel caso specifico lui ha parlato del terremoto dell'Aquila, io ho parlato del ponte Morandi. Il microfono dovresti averlo già là? Lui poi in particolare all'Università di Perugia sta lavorando ad un progetto specifico che è citato anche nel documento che abbiamo, insomma anche nel nostro programma di oggi, insomma e lì viene qualificato, poi vi parlerà lui meglio di che cosa si tratta. Qui a Digit, Piero è venuto a raccontarci soprattutto del rapporto che c'è fra macchine e uomini che dal punto di vista di un sociologo potrebbe arricchire ulteriormente il campo e fornirci ulteriori elementi per valutare. A te Piero. Intanto grazie per l'invito. Un'impresa un po' mi attende oggi perché quello che a voi potrebbe sembrare molto tempo, 45 minuti in realtà saranno pochissimi, io proverò a ragionare con voi su alcune tematiche che ormai sono come dire mainstream, sono trattate da tutti, chi è che oggi non affronta il tema della complessità. L'impressione è che lo si faccia non soltanto per, questo bank ci deve dare veramente, l'impressione è come dire che questo tema, ah no sta lì il proiettore giustamente, vediamo se va, non lo so non sta andando, ma non è un problema, va lì vedendo l'assenza, manina, ah sulla tastiera, ok allora questo non funziona, ok va bene dai, basta saperlo, io generalmente neanche mi avvalgo delle slide, però questa volta mi... allora diciamo che i temi che io vorrei provare a tenere insieme sono differenti e il messaggio che in qualche modo vorrei che passasse, anche se parlo di messaggio del passo siamo iscritti nella logica della unidirezionalità, diciamo il percorso comune e condiviso che vorrei fare con voi è quello di riflettere sulle caratteristiche, sui rischi, le implicazioni, i paradossi della complessità e di cosa stiamo parlando quando parliamo di complessità, perché io ho l'impressione che spesso, non qui, anche quando parliamo di intelligenza artificiale, di sistemi, continuiamo a ruotare intorno a quello che io definisco da sempre l'errore degli errori e cioè trattare i sistemi complessi come fossero sistemi complicati. Due parole, poi vi chiederò magari eventualmente anche di intervenire dopo, perché dobbiamo metterci d'accordo sul significato delle parole. Io ad esempio quando si parla già di intelligenza artificiale, a mio avviso non voglio dire che sia uno simoro, ma sono sempre stato estremamente critico verso la stessa definizione, perché bisogna vedere cosa intendiamo per intelligenza. Allora, due parole due, però è importante, perché sennò non condividiamo. Allora i sistemi, il complicato, i sistemi complicati, sono i sistemi artificiali, meccanici. Sono sistemi la cui spiegazione, interpretazione, gestione è possibile, perché rispondono a meccanismi, a modelli, a dinamiche che sono puramente lineari, causa-effetto, stimolo-risposta, input-out. Il fatto che rispondano a queste dinamiche logiche lineari, come dire, di fatto li rende prevedibili, gestibili. Facciamo un esempio, un orologio, il motore di un aeroplano o di un'automobile, anche qui si snota la questione pensiero meccanico, pensiero analitico. Cosa è possibile fare? Smontare il sistema, che di fatto è il sistema, è costituito da parti che sono connesse tra di loro, osservare le parti, le loro caratteristiche, e ricomporle con la consapevolezza di poterle gestire e prevedere come si comporteranno. Si comporteranno sempre come un insieme, come un tutto. Quindi prevedibilità e controllo, che sono la questione delle questioni rispetto agli argomenti che stiamo trattando, anche rispetto ai modelli culturali, all'educazione e quant'altro, diventano l'obiettivo, neanche troppo latente. Nel caso invece dei sistemi complessi, poi vi farò vedere anche le slide, ma io so che quando poi metto le slide vi perdo, nel caso dei sistemi complessi, quali sono? A chi ci riferiamo quando parliamo di complessità? Ci riferiamo ai sistemi che sono vitali, umani, sociali, relazionali, biologici. Una foglia è un sistema complesso. La differenza ancora una volta tra sistemi complessi e complicati è che i sistemi complicati, ad esempio, sono chiusi, oltre a rispettare logiche di linearità ad essere prevedibili, a non avere la capacità di auto-organizzarsi o la capacità di auto-adattamento. I sistemi complessi invece sono aperti, aperti a qualunque tipo di flusso e di interazione con l'ambiente, con l'ecosistema, sono appunto non lineari. Il valore conoscitivo dei sistemi complessi, e qui capite la sfida educativa e formativa, non sta nella possibilità di separare le parti e osservarle singolarmente, sta nella possibilità di rintracciare le connessioni e i livelli di connessione tra le parti. Da qui l'urgenza forte di una visione sistemica, che non può essere, non può rimanere solo, come dire, uno slogan. Io la sintetizzo con questa formula. Noi avremmo, non da oggi, bisogno di educare e formare, in primo luogo le persone e poi i cittadini e non semplici individui, a vedere, osservare, guardare, comprendere, già è più complesso e complicato allo stesso tempo, gli oggetti come sistemi e non i sistemi come oggetti. Spero che poi si comprenda la ragione di questa mia premessa, perché a mio avviso, ripeto, quando affrontiamo queste tematiche estremamente delicate, il problema è proprio che continuiamo a trattare qualcosa che è complesso come fosse complicato. Nell'illusione, questa è una delle grandi illusioni, uno dei grandi paradossi dell'epoca che stiamo vivendo, di un possibile controllo totale, di una possibile prevedibilità delle dinamiche. E tra i tanti paradossi c'è proprio quella che nell'era dell'informazione dei big data noi siamo in una condizione, recupero un concetto a me molto caro proposto da un premio Nobel per l'economia, noi siamo in una condizione di razionalità limitata, fortemente limitata. Proprio nell'era della disintermediazione noi abbiamo bisogno di recuperare le istituzioni, le figure, i processi di mediazione. Ma ci sono una serie di paradossi. Allora, in questa prospettiva scusate ma ogni tanto devo bere in questa prospettiva anche la tematica dell'intelligenza artificiale e qui quando l'amico Marco Renzi mi ha chiesto mi vieni a fare un intervento sull'intelligenza artificiale e sull'impatto che può avere sulla vita delle persone lui sa bene che io ricorro subito alle tematiche e alle questioni di approccio non vengo qui a dirvi cosa sia l'intelligenza artificiale perché tra i grandi problemi con cui noi dobbiamo confrontarci è che allo stato attuale delle cose ancora non ci sono abbastanza studi non ci sono studi e ricerche rigorose il tema va approfondito c'è un'urgenza forte di nuovi approcci ancora non si è maturata la consapevolezza come in tanti ambiti e qui dovrei dire qualcosa sulla scuola e sull'educazione che siamo di fronte a una complessità a una iper complessità che non è più un'opzione è un dato di fatto e questa complessità ci chiede di ripensare a fondo i saperi, le architetture dei saperi e di riflettere sulle nostre inadeguatezze che non sono legate a dati strutturali o biologici ma sono legate a condizioni di partenza variabili sociali e culturali io uso sempre questa formula si è parlato tanto anche prima di cittadinanza e di democrazia ebbene oggi queste tematiche in modo particolare quelle dell'educazione e della formazione tornano centrali mai come in passato perché sono cambiate le regole di ingaggio della cittadinanza la cittadinanza non è più una questione giuridica le regole di ingaggio della cittadinanza sono definite non più dai legislatori sono definite in quei luoghi e in quelle istituzioni che avrebbero dovuto contrastare le disuguaglianze e le asimmetrie a conferma di quanto vi sto dicendo il concetto che ho sempre usato negli anni è quello di società asimmetrica andatevi a guardare per chi già non lo avesse fatto non solo tutti i vari rapporti dell'Ocse su istruzione, educazione, education at glance ma anche l'ultimo rapporto Istat sulla conoscenza sulla società della conoscenza avrete delle straordinarie conferme ahimè estremamente preoccupanti su come scuole e università non solo non siano più ascensori sociali la vecchia metafora ma siano tornate ad essere agenzie di selezione e non agenzie di emancipazione c'è una opportunità tra le condizioni di contesto i fattori di contesto l'accesso alle informazioni all'educazione all'istruzione e i percorsi che i nostri ragazzi i nostri figli scelgono a livello di scuola e poi di università tutto in un quadro poi che è di assenza di politica direttamente e quant'altro perché faccio questa premessa? beh perché dietro ai temi di cui ci stiamo occupando spiegati peraltro molto anche mi ha preceduto forse è arrivato il momento di ripensare davvero ed era una formula che usavo alla metà degli anni 90 di ripensare il contratto sociale che ci tiene insieme l'abitare insieme quali sono i vincoli quali sono le regole quali sono le opportunità siamo così convinti in questi anni in cui le retoriche del digitale le grandi narrazioni del digitale attenzione retoriche poi adesso metterò qualche slide retoriche e narrazioni che si sono sostanziate anche in delle precise polisi la polisi dell'Unione Europea in questi anni e non sono un anti-europeista sia chiaro è stata quella di investire sulle infrastrutture digitali pensando che solo ed esclusivamente gli investimenti massicci, importanti sulle infrastrutture digitali avrebbero creato delle opportunità per tutti non sono e non saranno le tecnologie del digitale non è un discorso antitecnologico a creare le condizioni di rafforzamento o di ricostituzione di un legame sociale che è estremamente indebolito non saranno le tecnologie del digitale a riattivare i meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione sia chiaro le tecnologie del digitale sono una straordinaria opportunità ma dobbiamo mettere mano a educazione e formazione altrimenti le asimmetrie le disuguaglianze accresceranno aumenteranno è quello che sta avvenendo e questa dimensione ce la siamo completamente scordata perché tutto questo ci riguarda ma la maggior parte di voi siete giornalisti e sembrerebbe quasi un discorso lontano perché se noi immaginiamo la democrazia come un circuito complesso fatto di processi continui di negoziazione e mediazione fatto di tante variabili da tenere in considerazione non possiamo non prendere atto che in questo circuito complesso c'è un anello debole che è la società civile che è l'opinione pubblica anzi le opinioni pubbliche e questo elemento di debolezza ecco perché l'urgenza di una visione sistemica non ricade solamente sugli stessi cittadini o la stessa società civile ma ricade anche sugli altri attori individuali e collettivi a ricadute importanti sul sistema dell'informazione sui giornalisti proprio in cui in un momento in cui dicevo le retoriche della disintermediazione ci stanno passando il messaggio che si possa semplificare anche la democrazia allora io voglio dire sempre una cosa da comunque studioso di complessità l'opposto della complessità non è la semplificazione l'opposto della complessità è il riduzionismo è il ricondurre la spiegazione dei fenomeni a un'unica causa o un unico approccio o un unico ambito disciplinare continuare ad esempio ad assegnare un primato all'economia nella spiegazione nel tentativo di gestione della globalizzazione per esempio individuare spiegazioni di carattere di puro determinismo tecnologico quanto sta accadendo ora la confusione che ho richiamato e su cui tornerò tra complicato e complesso secondo me è determinante perché tutto il discorso che si fa sui big data sulle informazioni sull'estrema disponibilità delle informazioni ci sta restituendo a livelli alti soprattutto di chi prende le decisioni non soltanto come ho detto l'illusione del controllo della prevedibilità totale ma ci sta restituendo l'illusione di poter prendere definire delle scelte delle strategie breve medio lungo periodo fino in fondo razionali e ancora una volta perché dobbiamo intenderci sui termini che intendiamo per razionali ancora una volta è la razionalità economica dell'homo economicus che a mio avviso è stata fatta letteralmente a pezzi a parte che gli ultimi premi Nobel sono andati appunto in una direzione opposta riportando al centro una questione importante che noi abbiamo espulso anche dai processi educativi e cioè l'idea che in qualche modo le emozioni siano un qualcosa di separato rispetto alla razionalità rispetto al pensiero dimenticando che la stessa razionalità e le stesse scelte che facciamo anche in campo economico hanno sempre una base emotiva queste arricatute molto gravi io tendo a ricondurre sempre i problemi alla tematica dell'educazione e della formazione ma ripeto niente di nuovo niente di rivoluzionario dico sempre siamo sulle spalle dei giganti ma mai come in questa epoca noi abbiamo bisogno di mettere mano all'educazione e alla formazione ripensando le conoscenze le competenze perché qui poi andrò sulle slide perché c'è una serie di questioni che dobbiamo di cui dobbiamo prendere atto e di cui non si è presa consapevolezza anche se se ne discute molto la tematica del cambio di paradigma la tematica della trasformazione antropologica cosa è successo concretamente di fatto i confini tradizionali tra vecchie e a mio avviso false dicotomie tra natura e cultura tra naturale e artificiale sono completamente saltati ecco perché noi dovremmo rimettere mano ai discorso educazione istruzione formazione ricerca io ripeto sempre questo episodio che chi fa ricerca sa benissimo che in Italia in qualche altro paese devo dire che all'estero tutto questo per fortuna sta progressivamente saltando anche in termini di cultura della valutazione voi immaginate che ad esempio a livello di discorso pubblico penso la seguiate la questione tutti ormai parlino di interdisciplinarità di multidisciplinarità di transdisciplinarità la usano magari come sinonimi e fino a lì si potrebbe discorre tutti parlano di critical thinking perché bisogna dirle in inglese le cose pensiero critico pensiero sistemico adesso le nuove direttive saranno in direzione del pensiero creativo a livello poi di pratica continuiamo a andare nella direzione opposta oggi chi lavora nell'università e fa ricerca nell'università se pubblica e fa ricerche di carattere interdisciplinare un multidisciplinare e queste ricerche vengono pubblicate su rivista scientifica anche ad alto impact factor per la sua carriera accademica non valgono assolutamente nulla perché faccio questa premessa perché voi potreste dire la prossima ma se sta allontanando perché secondo me questo è il nervo scoperto è la questione delle questioni che ci condannerà magari tra 20 anni e io non sono un pessimista a ritrovarci magari qui a discutere ancora una volta tra le tante narrazioni di come la tecnologia vada a una certa velocità e la cultura non riesca a starle dietro come se la tecnologia fosse un qualcosa di esterno una narrazione assolutamente ingannevole e fuorviante come se la tecnologia e le tecnologie fossero un qualcosa di esterno al noi ai modelli culturali ai contesti culturali in cui vengono prodotti e invece no sono prodotti complessi di sintesi tra il mondo della ricerca e il mondo della produzione e del lavoro e l'altra questione importante sempre in termini di approccio di visione strategica il problema dei problemi è che noi continuiamo a tenere separati quindi qualcosa che invece è profondamente unito e connesso andiamo anche sugli aspetti più pratici abbiamo avviso un'altra delle false dicotomie quella tra conoscenze e competenze come se noi avessimo bisogno solo del saper fare il saper fare se non è orientato esattamente come nella ricerca scientifica non c'è solo la ricerca teorie e ricerca si alimentano vicendevolmente quindi ci sono tutta una serie di questioni importanti su cui ancora a mio avviso c'è poca consapevolezza e ripensare l'educazione e la formazione oggi non soltanto quella dei giornalisti e dei comunicatori deve partire da un presupposto che non si tratta più di un problema di contenuti che cosa insegnare qui non si tratta solo di aggiungere avete presente la tematica STEM poi sono diventate STEAM poi è stata aggiunta l'H per le Humanities qui si tratta di ripensare proprio l'architettura complessiva dei saperi qualcosa che all'estero sta avvenendo sta già avvenendo perché questo è l'altro grande paradosso dell'epoca che stiamo vivendo che proprio nell'era diciamo così nella civiltà ipertecnologica iperconnessa noi non abbiamo bisogno di tecnici avremo bisogno sempre di più di figure ibride ma non ibride rispetto alle manzioni alle funzioni che vanno a svolgere ibride rispetto ai percorsi educativi e formativi allora non so nel frattempo quanto tempo mi sono voi richiamatevi perché quindi gli obiettivi in sostanza adesso mettiamo un po' di ordine perché se no oddio se vi crea un po' di caos in testa è meglio secondo me è sempre produttivo il disordine serve anche a creare un nuovo ordine io sono 40 minuti allora posso andare posso andare allora gli obiettivi oggi erano un po' questi di provare a definire vi prego di fare domande perché immagino che senza alcun tipo di tumore provare a definire questa iper complessità anche lì le parole hanno un peso chi fa ricerca chi studia quando propone un concetto deve definire poi una definizione operativa i concetti vanno operazionalizzati cioè devono essere scomponibili poi in dimensioni in indicatori e in variabili che poi ti permettono anche di avere delle evidenze empiriche questo per essere chiari perché se no il problema diventa solo quello di trovare la parola che è più convincente e più efficace non un po' come le logiche di titolazione tante volte qui c'è una questione su cui dobbiamo ragionare perché parla di complessità di iper complessità l'altra questione definire l'intelligenza artificiale probabilmente a tutti noi potrà sembrare assolutamente un punto scontato se ne parla talmente tanto in realtà gli stessi studiosi gli stessi esperti stanno faticando non poco a trovare una definizione comune e ci sono diversi livelli di azione di ambito il problema anche lì che stiamo scontando e che sconteremo a lungo è che ancora non si è compresa la valenza di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare a una questione come l'intelligenza artificiale che è ancora più passata è una complessa da affrontare perché è a cavallo tal complesso e complicato proprio perché c'è la mediazione umana quindi saltano ancora di più le categorie tradizionali provare a sottolineare con voi l'urgenza di un approccio sistemico a questa complessità significa appunto guardare gli oggetti come sistemi e non viceversa e questo significa anche prendere atto voglio dire un'altra cosa che sia molto chiara siccome ho colleghi anche mediaticamente famosi e visibili che parlano di sistemi ad elevata complessità anche loro oggi trattano molto il tema della complessità ripeto è diventato tema alla moda salvo poi leggere tra le righe che si stanno confondendo con i sistemi complicati vi faccio un esempio molto banale che può sembrare solo un problema di scelta delle parole gestire la complessità è uno simoro perché alla luce di quello che ho detto e su cui torneremo la complessità non la puoi gestire puoi tentare di governare troviamo troviamo un concetto più adeguato ma non è solo una questione terminologica gestire significa che tu hai il controllo di queste dinamiche hai il controllo di sistemi che invece sono continuamente dinamici non sono mai statici sistemi in cui l'ordine e il caos coesistono capite quando all'inizio dico teniamo separati qualcosa che non è più separato che ormai è insieme il digitale anche da quel punto di vista che è solo uno degli ambiti di questa complessità fa ulteriormente saltare queste separazioni noi continuiamo a parlare di strumenti di media oppure oggi nonostante siano passati di nuovi media che avrebbero dovuto sostituire i vecchi ma in realtà dovremmo parlare di ambienti avremmo bisogno di una prospettiva su cui tra l'altro c'è tanta letteratura scientifica ecologica allo studio dei media e la questione della ah vabbè poi magari riuscirò a dirlo due parole riuscirò a dire due parole sull'urgenza di ripensare l'educazione andando oltre quelle che definì ed erano alla metà esattamente alla metà degli anni 90 le false dicotomie alcuni esempi di false dicotomie abbiamo detto natura cultura mente ambiente per chi ricorderà la lettura del del buon Bateson verso un'ecologia della mente conoscenze competenze formazione umanistica formazione scientifica interdisciplinarità complessità transdisciplinarità e specializzazione dei saperi il problema non è la specializzazione dei saperi i saperi non possono che specializzarsi e l'evoluzione che non è lineare tutt'altro che lineare non può che andare nella direzione di una iperspecializzazione dei saperi il problema è che non abbiamo fatto dialogare i saperi e questo è un elemento di ripeto davvero non soltanto di conflitto ma di arretramento di ritardo culturale importante il grande equivoco da questo punto di vista l'ho accennato prima della civiltà che stiamo vivendo è pensare che noi abbiamo bisogno di un'educazione di una formazione squisitamente di natura tecnica e tecnologica questo è proprio il grande paradosso salvo poi parlare di appunto di una umanizzazione delle tecnologie qui faccio una cosa ma qualcosa l'ho detto sulla complessità e quindi vado oltre solo una parola sull'ultimo punto eventualmente poi posso lasciare mi scuso ecco perché alcune delle slide come vedete sono in inglese non l'ho fatto per adottare un linguaggio esclusivo ma perché utilizzate una serie di conferenze all'estero non ho avuto il tempo di ritradurle in italiano comunque disponibile a lasciarle per chi poi eventualmente le volesse utilizzare una parola in più sull'ultimo punto di questa slide allora innanzitutto quando parliamo di sistemi complessi parliamo di sistemi complessi che sono appunto adattivi e sono adattivi perché hanno appunto una capacità di autoadattarsi addirittura c'è chi ha proposto un concetto negli anni passati che è quello di autopoiesi che viene dal greco autopoieo autofarsi farsi da soli cioè i sistemi complessi quando arrivano a un certo livello di complessità non sono più gestibili crescono e si sviluppano in maniera non lineare e poi c'è un altro aspetto importante su cui forse ancora una volta c'è poca consapevolezza perché avete visto che certi termini sono venuti fuori anche prima cioè l'idea che tutto ciò che sia artificiale anche lì i confini saltati sia infallibile non ci sia possibilità di errore lo stesso Turing e altri scienziati anzi scherzavano ironizzavano anche sul fatto che se noi vogliamo costruire progettare e realizzare macchine perfette infallibili nel momento stesso in cui sono infallibili non possono essere intelligenti perché l'intelligenza passa anche e soprattutto per l'errore per i tentativi di errore e una delle grandi questioni sull'intelligenza artificiale per esempio è il tema dell'intenzionalità delle scelte che fa il sistema o il robot guidato da sistemi di intelligenza artificiale perché l'intenzionalità è legata strettamente alla nostra coscienza alla nostra capacità di prendere una scelta di operare una scelta in maniera cosciente fino in fondo coscienza che è nel rapporto tra soggetto e oggetto quindi sono tutta una serie di questioni e il problema e su questo mi riallaccio anche a quello che diceva l'amico Michele Mezza senza altro tra le preoccupazioni maggiori ma non soltanto rispetto agli algoritmi è che di fatto questi sistemi di intelligenza artificiale ormai sono assolutamente presenti nelle nostre vite senza che però noi ne siamo assolutamente consapevoli quindi c'è un problema di attività versus trasparenza questi sistemi sono già nelle nostre vite già condizionano e sono già si sono già integrati proviamo a immaginare la società alla fine siamo noi il nostro sistema di relazione è un enorme tessuto nervoso in cui sono state introdotte delle parti artificiali che in teoria dovrebbero essere infallibili e invece chi si occupa di intelligenza artificiale gli stessi super esperti tecnici che ci vengono a dire ma si trovano anche tanti documenti in rete che allo stato attuale delle cose i sistemi di intelligenza artificiale sono altamente fallibili e le operazioni che ancora riescono a fare poi è chiaro che in prospettiva probabilmente si ridurrà questo margine di errore ma ci sono assolutamente una serie di epic fail come si dice anche di di robot allora anche lì facciamo attenzione a pensare che in qualche modo si vada perché questo c'è anche il confine tra utopia e distopia cioè l'idea di una società in cui sia possibile rendere tutto controllabile prevedibile eliminando tutto ciò che è errore tutto ciò che è devianza rispetto alla norma perché probabilmente lì si annida anche l'idea di una civiltà del controllo totale che a mio avviso è già in atto senza fare catastrofi dicevo l'altro punto in termini di metodo e di approccio è che da ricercatori ma anche voi come giornalisti come comunicatori chiunque prova a osservare dovrebbe essere educato e formato a essere più consapevole dell'importanza del ruolo che ha l'osservatore quando si parla tante volte di oggettività di obiettività della scienza io viene sempre da ricordare un grande classico avete visto non ho fatto citazioni per ora però delle scienze sociali della sociologia che era Max Weber il quale dalle tante questioni parla appunto di una impossibilità di una conoscenza realmente avalutativa della realtà quindi anche lo scienziato ritornando a quella distinzione tra scienze esatte e scienze sociali politiche il valore l'intervento dell'osservatore con il suo sistema di valori col suo modo di approcciare le questioni è un intervento importante che condiziona dico questo perché a mio avviso sta tornando forte anche il messaggio che si possa appunto ritornare a una idea della scienza e questa è un'altra grande questione in cui in qualche modo è scientifico ed è degno di essere conosciuto soltanto ciò che è misurabile in termini quantitativi su questo potrei dirvi ma non lo farò potrei tenervi qui a lungo sulla questione ad esempio del misurare la qualità che a mio avviso è uno simoro anche lì stiamo provando a trattare osservare a capire qualcosa che è qualitativo in termini quantitativi e questa è un'altra questione quindi sullo sfondo di quello che stiamo dicendo c'è anche l'urgenza di ripensare nella nostra cultura delle valutazioni guardate che dietro alla questione a mio avviso ecco questa è mia opinione non vengo a parlare poi di questo caso di ricerche e di altro che dietro a tutta la questione dei big data della disponibilità delle informazioni si nasconde ancora una volta l'urgenza forte del controllo l'urgenza forte della prevedibilità l'urgenza forte di trovare una giustificazione alle nostre scelte che deve essere una giustificazione di tipo razionale ecco forse devo dire qualcosa ma veramente due cose sul tema della razionalità che tipo di razionalità intendiamo a quale tipo di razionalità ci stiamo riferendo abbiamo detto quella economica detta proprio in soldoni in una maniera più semplice e me ne scuso ma se no non ce la facciamo è quell'idea di razionalità che abbiamo calato nei nostri processi educativi e formativi che vede nella disponibilità delle informazioni ecco il tema dei biddata dell'era delle informazioni e sulla base di una valutazione attenta rigorosa del rapporto costi benefici la nostra opportunità di operare delle scelte e delle azioni che sono fino in fondo razionali fatta questa premessa vediamo cosa intendiamo per questo passaggio alla ipercomplessità allora due parole forse devo aumentare il mio ritmo anche due parole nel passaggio dal semplice al complesso all'ipercomplesso questo passaggio si sostanzia in che cosa? in quantità e qualità di variabile di concause e di parametri che noi dobbiamo considerare per misurare osservare comprendere i fenomeni se dovessi dire questo passaggio dalla complessità alla ipercomplessità in cosa si sostanzia anche lì le variabili sono molte da considerare ma due in particolare forse ci interessano anche in questa sede il primo di fatto la prima di fatto riguarda questa chiamiamo la sorta di nuova velocità che il digitale ha introdotto storicamente la velocità determina sempre un problema ancora una volta di controllo di prevedibilità il controllo come in tutte le grandi rivoluzioni industriali il controllo arriva sempre dai modelli culturali ecco perché torniamo sempre sul discorso educazione e formazione quindi una nuova velocità che innanzitutto fa saltare i confini ma determina appunto un problema di gestione e queste questioni stanno e questo è il dramma chiamiamolo così anche se io continuo essere un ottimista anche un po' utopistico il dramma è che questa situazione abbiamo detto cambiamento di paradigma trasformazione antropologica razionalità limitata trova del tutto impreparate le nostre istituzioni educative e formative il secondo fattore anche lì anche se non mi piace usare continuamente questa parola perché già di nuovismo critico di maniera ne abbiamo fin troppo la nuova viralità della comunicazione di fatto sì la comunicazione è stata sempre importante dobbiamo anche lì metterci d'accordo su che cosa intendiamo spesso si fa confusione a mio avviso tra comunicazione e connessione o a livello di culture organizzative tra comunicazione e marketing potremmo trovare un accordo tra le tantissime definizioni presenti in letteratura scientifica su processo sociale di condivisione della conoscenza per esempio a dove conoscenza ha uguale potere allora cosa succede che nell'ambito dei nuovi meccanismi che sono sempre sociali anche se c'è la presenza della tecnologia e dell'artificiale quelle tematiche quelle questioni quei contenuti che prima erano di esclusivo dominio delle elite dei saperi esperti delle comunità scientifiche degli intellettuali di fatto escono la vecchia inflazionata metafora delle torri d'avorio escono dalle torri d'avorio diventano oggetto di dibattito sono discutibili sono negoziabili entrano in quella che una volta si sarebbe chiamata la sfera pubblica e questo determina che cosa torniamo ancora una volta lì l'urgenza di ripensare conoscenze e competenze lo dico un po' con l'accetta oggi non possiamo più accontentarci di sapere il vecchio modello educativo su cui erano costruite prima le scuole e le università ma non possiamo neanche accontentarci di saper fare abbiamo bisogno di sapere abbiamo bisogno di saper fare abbiamo bisogno di saper comunicare il sapere abbiamo bisogno di saper comunicare il saper fare quindi capite che ancora una volta quel venir meno dei confini e dei limiti è un qualcosa che stiamo assolutamente sottovalutando in quei processi di negoziazione di mediazione che sono l'essenza a mio avviso di un regime democratico che venivano prima evocati anche da Michele dobbiamo tenere in considerazione che allo stato attuale delle cose poi sono disponibile a darvi riferimenti di ricerche e studi questa straordinaria opportunità che è l'innovazione tecnologica che è la cosiddetta rivoluzione digitale allo stato attuale delle cose è un'opportunità per pochi è un'opportunità esclusiva non è un'opportunità inclusiva e questo è un altro dei grandi paradossi dell'epoca che stiamo vivendo architetture aperte del nuovo ecosistema globale ma reti chiuse il principio di esclusività sta prevalendo sul principio di inclusività e l'altro grande paradosso anche qui ci sono molti studi e ricerche a disposizione guardate e osservate come a fronte di sistemi di dinamiche che sono sempre più interconnesse sempre più interdipendenti tra loro noi assistiamo non da oggi al dominio dell'individualismo e di valori individualistici a voler ancora una volta riaffermare a chiare lettere che non sono le tecnologie e il digitale che possono riattivare quei meccanismi allora qui la contrargomentazione potrebbe subito essere sì però ci sono anche casi in cui il digitale e le tecnologie sono delle straordinarie opportunità è evidente ma come è stato detto anche prima sono le persone che fanno la differenza e la parola persona è importante non abbiamo detto individui forse noi non da oggi stiamo vivendo dentro una società che è una società di individui per richiamare anche il titolo di grandi classi del pensiero sociale e sociologico la differenza tra individuo e persona è che la persona è soggettività che è riconducibile a un noi e non a un io e quella dimensione del noi la devi costruire non la puoi imporre etica e morale non si impongono si impongono nei sistemi totalitari allora qui anche rispetto al tema della società dell'irresponsabilità che prima è stata evocata il nostro è un paese dove siamo molto abili bravi capaci nel gestire le situazioni di emergenza nelle incrociare le logiche e le strategie riconducibili al breve periodo quali sono? quelle dell'emergenza del controllo della repressione della sorveglianza queste logiche evocano e coinvolgono solo ed esclusivamente dei saperi esperti specifici quelli riconducibili all'importanza e alla rilevanza strategica del fattore tecnologico e del fattore giuridico il lungo periodo le logiche e le strategie del lungo periodo sono quelle legate alla costruzione alla possibilità all'opportunità di costruire condizioni sociali e culturali di prevenzione e guardate come il nostro paese si mostra estremamente abile nel gestire le emergenze io dico sempre il modello della protezione civile e si mostra del tutto incapace o si è mostrato del tutto incapace in questi anni di costruire una cultura della sicurezza e della responsabilità una cultura della prevenzione andatevi a guardare i dati sulle morte bianche andatevi a vedere la storia dei disastri di questo paese che continuano ad essere rappresentati come disastri naturali in cui in pratica noi siamo in balia delle forze della natura e non quella dimensione che non può essere qui torniamo al discorso sistemi complessi e complicati e non in balia di quella dimensione che è la responsabilità delle persone che non può essere inquadrata ingabbiata in nessun tipo di sistema giuridico questo riguarda anche la corruzione la tematica della corruzione capite che anche qui c'è un grosso fraintendimento nei saperi che vengono evocati e coinvolti e tutto questo poi ha diciamo un ulteriore adesso non mi viene un'altra parola diciamo radicalizzazione aggravamento rispetto a come il sistema dei media e dell'informazione e qui siamo tutti noi attenzione che non si tratta di dare colpe e responsabilità rappresentano questi fenomeni perché quando abbiamo parlato di nuova viralità della comunicazione la comunicazione è stata sempre decisiva anche a livello di processi di socializzazione di educazione ma la comunicazione ha un ruolo ancora più decisivo perché incide sulla percezione dei fenomeni rappresentazione e percezione è una correlazione importante ancora Piero dimmi cinque minuti allora vado velocissimo allora faccio scorrere così voi intanto vedete un po' poi li lascerò a disposizione allora io direi a questo punto di andare subito sulla sulle definizioni andiamo sulla tematica dell'intelligenza artificiale almeno diciamo due parole abbiamo detto che è questione assolutamente di non semplice definizione e interpretazione io vorrei portare qui con voi l'attenzione su rischi implicazioni e dimensioni che spesso sono epistemologiche e che vengono assolutamente sottovalutate allora qui ho fatto una piccola rassegna delle possibili definizioni di intelligenza artificiale voi magari le leggerete in separata sede in un secondo momento e vi rendete conto che già non c'è un accordo a livello di definizioni ne ho riportate alcune sia da alcune autorevoli enciclopedie straniere e anche appunto dizionari italiani sostanzialmente come penso saprete bene le grandi linee di azione di ricerca sull'intelligenza artificiale sono riconducibili a un'idea dell'intelligenza artificiale forte a un'idea dell'intelligenza artificiale debole nell'idea e nella visione dell'intelligenza artificiale forte c'è appunto la forte fiducia chiamiamola così nel poter emulare e simulare fino in fondo il pensiero umano addirittura gli studi più proiettati sul futuro sono quelli che vorrebbero studiare stanno studiando il pensiero umano soprattutto dei bambini perché sono i bambini che hanno più capacità di apprendimento per cercare appunto di comprendere come è possibile o riprodurre nei sistemi di intelligenza artificiale quel pensiero o riprodurre la logica del pensiero umano nei sistemi di intelligenza artificiale o addirittura portarli ad agire razionalmente ancora una volta lì il problema è solo della logica o a comportarsi fino in fondo come esseri umani ancora una volta lì vado un po' con l'accetta perché il tempo è pochissimo capite che c'è c'è una questione andiamo su questo andiamo subito sui rischi perché il tempo è pochissimo ancora una volta c'è una sottovalutazione in una serie di dimensioni si continua a pensare all'intelligenza artificiale come appunto un qualcosa di artificiale di prevedibile di controllabile di infallibile e quello su cui noi dobbiamo riflettere è che di fatto e lo saremo sempre di più ci troviamo in una realtà che è e sarà sempre più dominata dalla dimensione dalla ipertrofizzazione di ciò che è tecnologicamente controllata alla quali sono le questioni sul terreno senza altro la prima su cui devo dire adesso c'è anche una discreta incontro tra degli studi e delle ricerche io quello che ho sintetizzato con la forma del rischio della delega in bianco alle tecnologie che è un problema a mio avviso antecedente anche alla questione dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi quindi la civiltà ipertecnologica è una civiltà che pensa e questo è il fatto di modelli culturali ed educativi che pensa di poter espellere l'errore le emozioni le immaginazioni il creativo questo sta già avvenendo nelle scuole anche lì sono a disposizione perché non mi piace parlare per slogan sta già avvenendo nelle scuole e nelle università di poter espellere perché tutto deve diventare controllabile prevedibile i modelli culturali ancora una volta servono a quello gli stereotipi servono a quello i pregiudizi servono a quello quindi il rischio della delega in bianco è la conseguenziale marginalizzazione dell'umano io ritengo che tra le sfide che noi abbiamo a tutti i livelli c'è proprio quella di ripensare il ruolo la funzione l'essenza stessa ciò che ci differenzia l'essere umani in una realtà che è sempre più appunto basata sulla tecnologia che lascia poco spazio e nel marginalizzare l'umano marginalizza la dimensione della responsabilità anche qui i sistemi di intelligenza artificiale per arrivare e questo voi capite che io forse sono pessimista rispetto a questo anche se continuo a vederli come un'opportunità per arrivare a quella autonomia che è la grande ambizione legata anche a certe tematiche a certi filoni del post umano beh devono arrivare necessariamente a costruire progiuttare realizzare dei sistemi che siano in grado di riconoscere il bene dal male e ancora una volta lì siamo quantità qualità oggettività soggettività possibilità di valutare avalutatività i confini non sono così netti siamo ancora poco consapevoli di questa dimensione ho finito Marco anche se poi l'altra questione è venuta fuori anche negli interventi di Marco Renzi e di Michele Mezza c'è un concetto che secondo me che è un altro grande classico delle scienze sociali e che io amo spesso recuperare il concetto di etero direzione questa è un'altra delle questioni importanti perché ed è un discorso ci tengo a dirlo complementare a quello che è stato fatto anche sugli algoritmi da Michele ma qui c'è una questione importante non solo rispetto al fatto che allo stato attuale è fondamentale rendere trasparenti questi processi e questi sistemi fondamentale chiedere che siano negoziabili però la domanda che io vi pongo in questo momento è quanti soggetti quanti attori individuali collettivi sono in grado di prendere parte a questi processi di negoziazione guardate che già ci sono state delle esperienze anche recenti quando si parlava di cittadinanza digitale con il buon Stefano Rodotà quando si parlava della costituzione per la rete per internet quanti attori hanno partecipato alla negoziazione e alla scrittura di quelle norme di quelle indicazioni questa è una questione importante perché io ho la netta impressione che non soltanto quando parliamo di sistemi di intelligenza artificiale dove a mio avviso il vero problema non è tanto ruberanno i posti di lavoro non è tanto questo non abbiamo idea di dove stiamo andando la questione dei sistemi di intelligenza artificiale è ancora una volta che non sono per nulla trasparenti che non sono per nulla negoziabili che in qualche modo non incrociano e non intercettano persone cittadini che hanno gli strumenti per governare questo tipo di situazioni anche perché su questo poi mi taccio c'erano poi altre cose ho chiuso ho finito poi eventualmente continuo a dire con una vecchia formula non da oggi a mio avviso non bastano cittadini connessi e anche qui c'è stato un fraintendimento secondo me colossale nell'idea che si potesse arrivare a definire una cittadinanza digitale senza garantire i prerequisiti le precondizioni minime di una cittadinanza ecco perché all'inizio ho usato quella che vi è sembrata solo una formula che è basata però su studi e ricerche condotte quando ho detto le regole d'ingaggio della cittadinanza la cittadinanza che è ormai tematica globale come ben sapete non è più una questione giuridica in letteratura il primo saggio che parla della cittadinanza come questione sociale e culturale è quello di Thomas Marshall cittadinanza e classi sociali fino a quel momento e ancora oggi viene vista come una questione garattere eminentemente giuridico allora per dirla con uno slogan anche se non li ama non bastano cittadini connessi ecco perché la sfida è ripensare l'educazione e la formazione perché altrimenti anche tutte le questioni di cui stiamo discutendo qui oggi nel momento in cui verrà maturata una maggiore consapevolezza da parte degli studiosi dei ricercatori di voi giornalisti di chi effettivamente se ne occupa anche a livello di sfera pubblica e di opinioni pubbliche sarà una consapevolezza limitata e il rischio sarà quello di una e qui davvero chiuso poi spero le vostre domande sarà quello di una cittadinanza senza cittadini il rischio sarà quello di un'innovazione tecnologica senza cultura e quando si determinano le condizioni di un'innovazione tecnologica senza cultura cioè calata dall'alto calata sull'idea che il fattore tecnologico e il fattore giuridico siano condizioni necessarie e lo sono e sufficienti e non lo sono per governare il cambiamento e determinare un'evoluzione una crescita siamo completamente fuori strada alla fine di educazione non ve l'ho parlato per niente però vorrei dire solo questo vi ho solo accennato la questione la tematica delle figure ibride concetto a me caro il grande equivoco noi abbiamo l'urgenza di recuperare le dimensioni e spero che adesso queste parole magari assumano un significato per noi tutti qui noi abbiamo un'urgenza importante che a mio avviso è l'urgenza delle urgenze recuperare le dimensioni complesse della complessità educativa l'empatia l'autenticità vi posso garantire che si può educare all'empatia si può educare all'autenticità perché è lì che si formano le persone e i comunicatori i giornalisti i professori universitari gli esperti gli scienziati prima ancora del ruolo e delle responsabilità che incardinano e incarnano sono persone allora attenzione a costruire a pensare di poter gestire una sharing economy visto che i termini inglesi fanno più effetti l'economia della condivisione senza aver compreso fino in fondo la natura l'ambivalenza l'ambiguità la contraddittorietà la conflittualità le modalità di cooperazione e fiducia che caratterizzano la società della condivisione grazie 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 a tutti